Ci dimentichiamo spesso dei nostri piedi, ma non appena cominciano a essere fonte di dolore, assumono importanza. Nel tempo continuerà a infettarsi e le infezioni possono essere letali. Mi chiamo Ebony Vincent e sono un chirurgo del piede e della caviglia. Dottor Brad Schaefer, sono un podologo e un chirurgo del piede e della caviglia. Brava tesoro. Stai andando benissimo. Non riesco a guardare. Ogni piede racchiude una storia. Sono nata con sei dita su ciascun piede. È molto dura. Già. È riuscita a farmi commuovere. Alcuni pazienti vogliono solo essere ascoltati. Ho dei piedi orrendi e mi dispiace tanto che lei debba toccarli. Mi vergogno tanto. Guarirà, non si preoccupi. Posso risolvere il problema che li affligge e aiutarli così ad avere una migliore qualità di vita. Bisogna intervenire chirurgicamente. Salterò più in alto. È un'ottima domanda. Ok. Il nostro scopo è risolvere il problema del paziente, ma è importante fornire anche un sostegno emotivo, perché potrebbe davvero fare la differenza. Mi ha cambiato la vita. Sono una persona nuova e le sono grata per questo. Quando si ha un problema ai piedi, questo incide sulla qualità della vita. Tenga duro, David. Ci sto provando. Bravo. In chirurgia può capitare di tutto. Che cos'è successo? C'è un problema. Ha avuto una complicanza post-operatoria. Nella peggiore delle ipotesi, il lito va in cancrena. Oh mio Dio.